E' imminente l'approvazione della nuova direttiva sulla legislazione farmaceutica, il più importante provvedimento sui farmaci da vent'anni a questa parte. Questa legislazione aprirà delle sfide molto importanti per le aziende farmaceutiche ma anche per tutto il mondo che ha a che fare con i farmaci, dalle istituzioni alla classe medica. Noi ne parliamo con l'Onorevole Ugo Cappellacci, Presidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. Abbiamo incontrato qui a Roma nel corso di un evento dal titolo Europa in Salute promosso da Elilili per fare il punto insieme alle istituzioni, alle società scientifiche e alle associazioni di pazienti sulle sfide che l'Unione Europea dovrà affrontare in tema di salute e in tema di economia per quanto concerne le scienze della vita. Onorevole Cappellacci, come commenta la direttiva sulla revisione farmaceutica che dovrebbe essere approvata di qui a non molto, insomma nei prossimi giorni? Qual è il commento? Noi abbiamo esaminato in Commissione Affari Sociali il documento e abbiamo condiviso alcuni principi di base che sono quelli che mirano a rendere più accessibili a tutti i farmaci, a creare i presupposti perché ci sia una risposta alla domanda di salute. Però nello stesso tempo abbiamo evidenziato alcune criticità che riteniamo importanti. Ci sono alcune impostazioni che possono allontanare o disincentivare gli investimenti in ricerca da parte dell'industria farmaceutica. Uno di questi è la possibilità di ridurre il tempo della protezione del brevetto di due anni, da otto a sei anni. Un altro aspetto è quello che privilegia nella valutazione del farmaco quelli che sono aspetti legati alle condizioni ambientali che dal nostro punto di vista sono comunque rispettati e tutelati da normative più generali sul tema e che non devono entrare a gamba tesa in campo farmaceutico dove deve prevalere per la valutazione del farmaco la capacità del farmaco di essere efficace e di risolvere il problema di essere accessibile a tutti.